Diciamolo tranquillamente, se tutte le partite fossero come Fiorentina-Milan potremmo tranquillamente cancellare o perlomeno depennare la parola noia dal dizionario perché stasera c'è stato veramente tutto. Oltre a gioire e godere perché noi senza ipocrisia del risultato finale, devo ammetterlo stasera, mi son divertito perché c'è stato veramente tutto, c'è stata l'intensità, ci sono stati i gol, ci sono state le occasioni, c'è stata la qualità, Flauch da una parte, Ibra dall'altra, alcune giocate esorbitanti se penso al gol di Saponara o ai dribbling funambolici di Leao. C'è stato veramente tutto, anche qualche errore di troppo, ma è stata una bella, 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 bella partita, partita che vince la Fiorentina e parliamo, parliamo di tutto ciò, prima come al solito vi voglio invitare a lasciare un like, iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti, appena iniziato, finalmente Serie A e finalmente tanto calcio, per cui iscrivetevi e vi ringrazio perché stiamo raggiungendo, siamo lì lì verso i 165.000 e devo a voi questo traguardo, detto questo, come al solito vi invito anche a scaricare OneFootball per rimanere aggiornati H24, ragazzi, sulle varie news, sulla vostra squadra del cuore, ricorderò all'infinito che l'app, oltre ad essere gratuita, quindi potete scaricarla tramite il link in descrizione o tramite QR code, vi ringrazio anche, vi ricordo, vi ringrazio, oddio, sono proprio funesto, vi ricordo anche che è personalizzabile, quindi vi possono arrivare le notifiche in base appunto agli argomenti o comunque alla squadra che volete seguire o la competizione o meno, quindi tutto, 360 gradi, vi divertite con OneFootball, ma soprattutto per i miei intergiornati. Allora, Fiorentina-Milan, da dove partiamo ragazzi miei? Forse partiamo proprio dalla cosa più banale di tutto, perché se ci sono stati sei gol, quattro da una parte e due dall'altra, significa che ci sono stati anche tanti, tanti errori. Non neghiamo alcuni addirittura clamorosi, credo che il risultato sia stato anche viziato un po' dalle assenze, da una parte e dall'altra, gli squalificati Quarta e Milenkovic e l'infortunio di Tomori, credo che nel Milan, oltre al lungo De Gente e Mignon, hanno fatto il resto dall'altra. Ma questo è per essere esaustivi nel discorso, nell'analisi ovviamente, però ovvio che parliamo anche delle giocate, anche se poi in realtà la partita si è un po' aperta grazie al primo gol, un primo gol che ha indirizzato un po' e ha accelerato quel processo di crescita o processo nella prestazione, se vogliamo, della squadra Voiola, che si è portata in vantaggio con un doppio errore, non un singolo errore, perché molti sentono, eh ma Tartarusano, che poi tra l'altro non stava facendo rimpiangere Mignon, ma con l'uscita di oggi ragazzi, un errore imbarazzante, ma non unico, non unico nel frangente, perché poi secondo me fa una roba altrettanto grave che abbia, perché lì era in pieno controllo, può tranquillamente spazzarla, buttarla in calcio d'angolo, visto che è girato, no? E con le spalle rivolte verso, non il campo che difende, non la porta che proteggeva, poteva, facile dirlo adesso, è per carità di Dio, ma lì ovviamente l'ha giocata sbagliata. Questo un po' ha favorito sicuramente una Fiorentina che è partita bene, ha giocato bene, ma poi, come dicevo prima, ha anche concesso, vuoi non vuoi, per demerito forse di una difesa approssimativa, no? Se vogliamo, quando ti mancano praticamente i titolari inamovibili, e quindi le occasioni ci sono state, cioè il Milan subisce quattro gol e sicuramente qualcosa non ha funzionato. Quando prendi quattro gol, l'assenza di Tomori, sì, Mignon va bene, però quando prendi quattro gol, significa che qualcos'altro non è andato per il verso giusto, ma sicuramente lì davanti ha creato tanto, cioè il gioco, la proposta, il solito calcio non è mancato, anche la reazione, anche quella non è venuta meno. Secondo me è una battuta del resto che ci può stare, assolutamente, perché quando giochi all'Artemio Franchi, i ragazzi contro la Fiorentina, una squadra che comunque è una realtà del nostro campionato, la Fiorentina, deve solo trovare costanza, deve solo trovare appunto risultati su risultate, ma che sia una squadra importante per il nostro campionato, la Fiorentina, credo che sia sotto gli occhi di tutti, per i giocatori che ha e con quelli che si può permettere anche in panchina. E quindi, come dicevo, un Mila che è mancato forse, ripeto, dopo il gol subito è mancato un po' nel trovare, nel trovare subito il pari, e le occasioni ci sono state, clamorosa quella di Ibra, un paio di sgroppate esorbitanti, come dicevo prima, di Leao, che secondo me ha fatto una partita mostruosa. Cioè, io in Serie A vedo sempre meno giocatori che saltano l'uomo, quindi quando mi capita di vedere la prestazione di Leao, che stasera praticamente l'uomo l'ha saltato sempre, almeno uno quando gli ha arrivato la palla, lo saltava sempre, ma è impressionante, ripeto, nella velocità, nella falcata, nel puntare l'uomo e nel saltarlo con estrema semplicità, sono rimasto impressionato, gli è mancato veramente il gol, anche nel secondo tempo, un tiro a giro, gli è mancato un po' la precisione sotto porta, ma ha fatto una partita, una partita clamorosa, secondo me, secondo me, Leao, e gli è mancato quello, e dall'altro lato invece c'è stata una Fiorentina che ha punito, c'è stata una Fiorentina che con qualità ha portato a casa subito, non subito, ma diciamo nell'arco della partita, il 3-0, è andato sul 3-0, trovando un 2-0, una giocata di Saponara, ragazzi, bellissimo, anche il gol di Saponara, ripeto, stasera ho visto tanto, ma veramente tanto, quindi non so dove andare a parare, perché dovunque dovrei fare una parentesi, perché c'è stato veramente, c'è stato veramente tanto, un grande gol di Saponara e poi con un Milan slanciato ha subito il terzo gol, Lovic, che ragazzi, anche poi per come ha segnato il quarto come un serpente velenoso, dimostra che questo ragazzo ha delle qualità innate, ma oltre alle qualità la testa per incidere, perché un giocatore così giovane, con i problemi relativi al rinnovo e quindi alla piazza, in molti tifosi che addirittura l'avrebbero lasciato in tribuna per tutta la stagione, ma come fai? Questo invece è un giocatore che ha la testa sulle spalle, che sa quello che vuole, che non si fa distrarre da niente, da nessuno, e che è decisivo, ragazzi, quelle palle che ha, le lavora bene e quando può, ripeto, punge ed è velenoso come un cobra, è velenosissimo, davvero impressionante e come dicevo, anche sul 3-0 c'è stato, diciamo, Gabbia che se l'è perso, ecco perché sottolineavo un po' l'assenza di Tomori che secondo me comunque è stata determinante per quanto riguarda il Milan, e niente, 3-0, poi la partita si è riaperta perché Bonaventura, che tra l'altro non aveva giocato male, ha fatto anche lui, come abbiamo visto, un errore clamoroso e poi un altro errore clamoroso lo fa Teo nel finale, cioè qualche errore di troppo in questa partita dove c'è stato tanta intensità e quindi tanto dispendio energetico, qualche errore di troppo c'è stato, ma ci può anche stare, con il rientro dalle nazionali, i giocatori che giocano ogni tre giorni, ripeto, una partita così intensa, qualche errore di troppo c'è stato, però dicevo subito 3-1, ne approfitta subito Ibra, poi devi andare comunque a segnare nonostante l'errore di Bonaventura, e lo trova, trova anche il 3-2 subito, il Milan poi ha spinto, perciò c'è stato anche nella reazione, il Milan, alla fine, ripeto, il suo l'ha fatto, e dietro, dietro, quando subisce quattro gol, qualcosa devi rivedere, e ne abbiamo già parlato, però nonostante ciò, ripeto, va sottolineata la reazione, va sottolineata la prova di Leao, e va sottolineata ancora Ibra, ragazzi, quant'anni ha questo qua? Ragazzi, questo non conosce, cioè non sa cosa sia il tramonto professionale, cosa sia il tramonto professionale, lui non lo sa, ancora oggi ha fatto 3 gol, poi è finita 4-3, il terzo gol l'ha fatto lui, anche il terzo, cioè praticamente oggi ha fatto tripletta, il terzo non gli verrà assegnato, ma è il terzo più degli altri in merito suo, cioè è pazzesco, ragazzi, è pazzesco, è pazzesco così come è stata pazzesca la Viola, che, ripeto, ha fatto 4 gol, ha espresso il suo calcio, non si è snaturata, italiano comunque quando può, o meglio, dimostra sempre quello che è il suo valore, quello di un giovane allenatore che comunque vuole giocare il suo calcio e ci riesce spesso, ci riesce spesso, e oggi, ripeto, anche la Fiorentina con delle assenze dovute a squalifica, non è infortunio, però con delle assenze ha dimostrato di tenere testa e di battere per la prima volta in questa Serie A, il Milan, quindi la Fiorentina c'è, e poi, come dicevo prima, questa è una squadra che comunque ha valori importanti anche dalla panchina, perché dalla panchina è entrato Nico Gonzalez nel finale, un giocatore che potrebbe giocare il titolare quasi ovunque, che ha una qualità anche lui impressionante, che ha fatto sbagliare Teo, è stato bravo e questa è una squadra che ne ha, ne ha, ne ha, bella, bella partita, ragazzi, stasera, bella, bella, tanto calcio, tanto spettacolo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, a me è piaciuta questa partita, facile dirlo, ma fatemi sapere perché è piaciuta anche a voi, un grande abbraccio, Daneschi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.